E' un'autista che deve fare il bagno nella vasca del parò! C'è le tue stanze! Ma cosa è questa puzza? Chi è? Eh, ma quale puzza? Questo è Chanel, che profumo? Cioè, basta, mi vaffanculo! Scusate! Mario? Ma cos'è sta puzza? Che? Come? Non ti permettere a dire puzza? Un pacchetto dici che fa puzza? Le sarbe questo caso, la rifaccio, scusa! Chanel è una merda! Una merda no! Ed io ero qui che mi ruzzolavo tra le lenzuola col tatuato! Dio mio! Perché? Perché Elena? Non c'è una ragione! Amore, loro hanno anche la vista sulle montagne, guarda! Vigliacca boi ed è anche più grande della nostra! Scusa, eh! Ma te questa, quanto la paghi? Te? Seicento! Settecento! Dieci! Adesso scusateci, siamo stanchi, vorremmo farci una doccia! Andate, me sono picciato! E a me mancava la figura di un marito! E ho trovato un uomo che mi desidera! Che mi fa sentire donna! Che mi ama! Con lui faccio cose speciali! L'ugna aperto è... Come una nebbidocca! Vai a metto! Allora, qui ho segnato tutti i posti dove non possiamo andare se no ci pelano! Croce nera significa negozio carissimo! Croce rossa, ristorante inavvicinabile! E questo teschio nero? Mortale! E' il caminetto! Per mangiare ci vogliono un minimo 200 euro! 200? Sì, scusi! Stop! Maledetto! Maledetto! Il principe? Ma no, mi chiami Emanuele, siete a plesia! Santo Onore anche moi! Non vorrei sembrare inopportuno! Ma lei ha dei programmi per questa sera? Ma veramente pensavo di cenare in camera! No! Guardi! Io sono molto superstizioso! Ho invitato degli amici per cena e mi sono accorto che siamo 13! Non è che lei per caso vuole venire a cena con... Per caso al posto di invece! Aspetta, 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 aspetta! C'è un movimento! Movimento! Guardate, guardate! Guardate, guardate lì! Chi? Ma state zitto! Che costa faccia da culo che te ritrovi! L'Aquila! Te l'avevi fatta qua sulle guance! Oh, signor benedetto! Lasciatami moi, eh! Che pigli più pizze tecche in forno a legna sabato sera! Roberto! Questo è il nuovo parroco! Don Antonio! Ma che lei ha dato pure al parroco? Ho dato i vestiti vecchi! Ma sono i vestiti vecchi gli abbiamo dato! Avvabbè! Affanculo! Bene! Azione! Mamma mia che prezzi! C'è un filetto di gobbe che deve essere un animale estinto perché costa come il motorino mio! Non si può far vale, lì dentro c'è... Porco, Valè. Mamma mia che prezzo. C'è sta un filetto di gobbe che deve essere un animale estinto perché costa come il motorino mio. Non si può fare, Valè. Sei porco. Buonasera, buonasera e benvenuti. Prego, accomodatevi. Buonasera, prego. Sette e otto. Buonasera ragazzi, prego, andate dentro che qui si gela, eh. Nove e dieci. Buonasera, benvenuti. Siete gli ultimi, ma buoni, pronti, via. No, scusate. Bene, e azione. Puttana, ma... Ma che cazzo. Tutti la parola. Buonasera. Movimento. E azione. Appunto. Ma non a te. A sto sciponito che... Stop, stop, stop. Che c'è a venire? ! Buonasera. Grazie.